Benvenuti a Gossip Italia TV. Veronica Peparini e Andreas Müller sotto shock, purtroppo la situazione si fa complessa. Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale per non perderti tutte le novità.c. Allacciate le cinture, siamo pronti a decollare. Andreas Müller è stato recentemente avvistato mentre porta a spasso le sue gemelle, Penelope e Ginevra, nate dalla relazione con Veronica Peparini lo scorso 18 marzo. In un'uscita informale, il ballerino ha optato per un look insolito per un padre, indossando un crap top, un capo di abbigliamento tradizionalmente femminile. Indossava jeans larghi, una maglietta corta che lasciava scoperto appena l'addome, scarpe da ginnastica e un cappellino con visiera. Con questo look non convenzionale per un papà, Müller si sentiva a suo agio mentre trascorreva del tempo con le sue adorate figlie. Spesso mi chiedo che tipo di padre voglio essere per le mie figlie. Oggi ho scelto di essere un papà in crop top, ha scritto, riflettendo forse il desiderio di essere un genitore moderno e progressista. Tuttavia, è importante notare che il termine crop top si riferisce a un indumento femminile che lascia scoperto il ventre, come indicato nel vocabolario treccani. Nonostante ciò, Müller sembrava felice nel condividere foto e video delle sue prime passeggiate con le bambine, sottolineando anche l'apertura della Peparini Academy a settembre. Le foto hanno suscitato diverse reazioni, con molti complimenti e auguri per la coppia di neogenitori. Tuttavia, non mancano le critiche, con alcuni che trovano il look di Müller inappropriato per un padre. Nonostante ciò, il ballerino sembra non curarsi delle opinioni negative e si concentra piuttosto sulla gioia di essere padre. Nel frattempo, Veronica Peparini, impegnata tra lavoro e vita familiare, ha condiviso una dolce foto insieme alle sue bambine sulle sue storie Instagram. La coreografa, che ha già due figli dal suo precedente matrimonio, sembra radiosa nella sua nuova veste di mamma di quattro figli. La gravidanza di Peparini ha rappresentato per lei un momento di grande gioia e ha voluto condividerlo con i suoi follower sui social media, dimostrando che non c'è un'età limite per diventare genitori. Müller, da parte sua, non nasconde l'entusiasmo per la paternità, anche se ammette di provare la mancanza delle sue adorate figlie quando è lontano per lavoro. Tuttavia, il ballerino si sente fortunato e grato per questa nuova esperienza di vita, come dimostrano le sue dolci parole durante le videochiamate con Peparini e le bambine. In conclusione, Müller si rivela un padre amorevole e presente, pronto a condividere ogni momento della crescita delle sue bambine con il mondo intero. Grazie per averci seguito fino alla fine. Diccila tua nei commenti. Se hai apprezzato questo video e desideri rimanere aggiornato sulle ultime notizie nel mondo del gossip, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non perderti neanche un aggiornamento. Ci vediamo nel prossimo video.